Parte il piano di riqualificazione urbanistica e ambientale dei rioni collinari di Salerno. Questa mattina ruspe in azione nel quartiere di Matierno. Sono iniziati i lavori per la rimozione dei prefabbricati in via Torre Bianca. Si tratta del primo intervento incluso nei finanziamenti previsti dal piano per le periferie predisposto dal governo Gentiloni. Dopo Matierno il programma di bonifica proseguirà anche a Doiara e a Fratte. Interventi di miglioramento anche su altri contenitori a servizio di queste zone come il centro sociale al di sotto del parcheggio dell'abitato di Matierno e la riqualificazione complessiva del parco del Monte Stella. La demolizione di queste strutture che vedete alle mie spalle che sono un'assoluta vergogna verranno demolite, verrà risanata l'area, verranno fatte degli interventi di verifica anche per quanto riguarda l'inquinamento eventuale dei suoli. Dopo questa prima fase di demolizione generale di quanto vedete si passerà ad altre opere, la realizzazione di una strada, di una palazzina con quattro abitazioni ed altre opere che fanno parte della seconda fase dell'appalto, tutto finanziato e realizzabile. La prima delle opere che abbiamo iniziato ce ne sono delle altre che faremo con una cadenza credo settimanale, inaugureremo tutte le opere previste dal piano delle periferie.